Novara si giudica gara 3, Chieri lotta fino all'ultimo, però alla fine deve alzare bandiera bianca. Che partita è stata Ilaria? È stata sicuramente più equilibrata di gara 2, dove non abbiamo proprio espresso il nostro gioco al meglio. Anche oggi però ci sono state un po' di imprecisioni che ci sono accostate le finale di set. Soprattutto il ramarico più grande è sicuramente il terzo, dove eravamo davanti e dovevamo essere un po' più luciniche. Ci siamo fatti un po' sopraffare dall'ansia di chiudere e alla fine brava è loro perché hanno fatto un'ottima partita anche oggi. È stata comunque una serie molto equilibrata in cui Chieri ha dimostrato di essere alla pare di Novara. Sì, era lo scontro che risultava essere più equilibrato anche da delle posizioni in classifica della regular season. Così è stato, quindi è giusto che si sia finito gara 3 ed è giusto che sia stata lottata fino a riuscire. Per chiudere un bilancio della stagione di Chieri. Io credo che sia stata una delle migliori stagioni del club. Se avessimo raggiunto la semifinale sarebbe stata inutilemente la stagione migliore del club. Però credo che il trofeo messo in bacheca, questa serie di quarti di finale, il raggiungimento della selezione di Coppa Italia, che ricordiamo che è stato un grande traguardo, secondo me è stata una buona. Grazie.